Se parliamo di iperspazi, di allargare il numero di dimensioni e del progresso degli scienziati aerospaziali fino ad un livello di tecnologia che consenta di costruire un veicolo iperspaziale, se riuscissimo a sviluppare un veicolo del genere, allora viaggiare nell'universo non significherebbe viaggiare attraverso uno spazio definito, ma piuttosto ruotare in altri spazi limitrofi. Dobbiamo imprimere un movimento di torsione, piuttosto che procedere come un proiettile verso un altro spazio-tempo. Basta semplicemente ruotare in avanti e poi indietro ed il gioco è fatto. Il controllo di questo movimento consente di partire da qui e di raggiungere la terza e la quarta dimensione ed oltre e poi ritornare indietro nella nostra, nel nostro spazio-tempo e così si possono saltare varie galassie e si può viaggiare fra una galassia e l'altra. Una terza soluzione può essere data dalla smaterializzazione. La fantascienza ha sempre fatto riferimento a questa possibilità. Sebbene al momento ci possa sembrare un'utopia, nel futuro potrebbe essere possibile smaterializzare un veicolo spaziale, trasformarlo in energia pura e poi proiettarlo alla velocità della luce in un altro sistema solare dove si materializzerebbe di nuovo, si ricostituirebbe, rendendo possibile la copertura di queste distanze enormi. In un modello iperspaziale, girando ad angolo retto, perdiamo una dimensione. Girando su tre angoli retti, si perdono tutte e tre le dimensioni. È questo il caso in cui si può avere una smaterializzazione completa. Per la nostra fisica, nel girare di una dimensione, quella dimensione viene persa ed essa appare come una superficie piana, con una forma luminosa. Pensiamo agli avvistamenti di UFO. Circa l'83% dei casi è costituito da luci notturne. Per me sono questi i casi maggiormente interessanti. In particolare, quelli in cui le forme luminose prima si materializzano e poi si smaterializzano in forme luminose che poi svaniscono. Ci si accorge di questo fenomeno quando vi si assiste. E non solo è possibile descrivere tutto questo matematicamente, ma il fenomeno, sul piano aerospaziale, esiste veramente ed è visibile. In questa fotografia si vedono le stelle attraverso una cosiddetta astronave in fase di smaterializzazione. Quindi, a mio avviso, il fenomeno UFO rientra nel concetto di smaterializzazione. Fra i progetti spaziali della NASA c'è il programma SDI, Iniziativa di Difesa Strategica per le Guerre Stellari, iniziato durante la presidenza Reagan nel clima di disgelo con l'ex Unione Sovietica. Sino alla fine degli anni Ottanta il ruolo della NASA aveva palesato fini esclusivamente scientifici. Il vero obiettivo a lungo raggio è la costruzione di una stazione aerospaziale. Alla NASA abbiamo lavorato a lungo a questo progetto. Abbiamo iniziato nei primi anni Sessanta, diretti dal dottor Werner von Braun e da altri esperti. L'obiettivo era di ampio respiro, andare oltre la Luna ed anche oltre Marte. Poi ci siamo fermati e solo il 20 luglio 1989, nel ventesimo anniversario della missione dell'Apollo 11 sulla Luna, il presidente Bush propose un nuovo programma a largo raggio con l'intento di ritornare sulla Luna per poi raggiungere Marte. Per gli Stati Uniti si trattava di un impegno a lungo termine che prevedeva una fase di installazione di una stazione spaziale che sarebbe stata utilizzata come banco di prova, come laboratorio per sperimentare nuove tecnologie. Lo spazio serve per sviluppare queste tecnologie, ma certo, finché continuiamo a stare sulla Terra possiamo semplicemente parlarne. Per quanto riguarda il tipo di tecnologia da utilizzare per quella che viene definita SEI, cioè iniziativa di esplorazione spaziale, la NASA ha effettuato e conduce studi e ricerche per definire la tecnologia da usare come sistemi di propulsione e sostentamento, materiali e strutture, energia e comunicazioni. È un'attività che coinvolge diversi settori. Si sperimentano le tecnologie già in nostro possesso, le più moderne di oggi, ma anche quelle avanzate, ovvero quelle di dopodomani. Alcune di queste ricerche sono state presentate sotto la spettacolare forma cinematografica della serie Star Trek come frutto della fantascienza, ancora lontane da raggiungere, ma forse le cose non stanno realmente così. Ciò che mi ha spinto a lavorare con Gene Roddenberry, il creatore di Star Trek, è stata la sua richiesta di rappresentare il futuro a 200 anni da oggi, nel modo in cui noi vorremmo che fosse un futuro molto positivo, con una tecnologia amica e non nemica, la tecnologia come partner degli uomini. Nel primo film, ad esempio, la navetta Voyager era alla ricerca del suo artefice, del suo creatore. Si trattava di una metafora dell'uomo alla ricerca del suo Dio, la storia della ricerca di Dio. Quindi Roddenberry non a caso richiese la collaborazione della NASA. Voleva mostrare le capacità tecnologiche realisticamente nei film, con una descrizione accurata in termini di fisica, matematica ed astronomia. Il sistema di propulsione dello Star Trek è formato da due elementi principali. Uno è la fonte energetica, che serve solo a fornire energia. È il sistema antimateria, e questo si poteva realizzare. L'altro è il sistema di propulsione detto warp drive, cioè atto a proiettare l'astronave nello spazio e nell'iperspazio, viaggiando ad una velocità superiore a quella della luce. Noi sappiamo cosa sia l'antimateria, e l'unione di antimateria e materia dà luogo ad esplosioni enormi, che sprigionano una quantità notevole di energia, come indicato nella formula E uguale mc quadro di Einstein. Questo è il tipo di reazione più potente nell'universo, e viene utilizzato dall'astronave Enterprise. Esiste una serie di modelli applicabili ai viaggi spaziali, sia interstellari, sia intergalattici. Nonostante ciò, va chiarito che la gamma delle possibilità è talmente ampia da superare senz'altro la nostra immaginazione. Disponiamo dunque di modelli teorici, ma una civiltà altamente avanzata di un altro sistema solare, formatasi molto prima della nostra, può aver già scoperto modi straordinari per viaggiare tra le stelle. È chiaro che per questi esseri viaggiare da Epsilon Eridani al sistema solare è come andare da Londra a New York. Se tutto questo è possibile, perché ostinarsi a rifiutare l'evidenza di manifestazioni aliene alla nostra Terra? Perché rifiutare ancora l'ipotesi che chi ci visita a bordo degli UFO possa rappresentare, almeno in parte, l'avanguardia di una civiltà diversa dalla nostra. C'è chi la pensa in questa maniera e chi si spinge anche più in là. Sono qui per controllarci. Avviarono il loro programma esplorativo circa 2000 anni fa. Sono molto avanzati dal punto di vista tecnico e spirituale. Questi esseri possiedono una tecnica che consente loro di prevedere gli sviluppi dell'universo per secoli. già migliaia di anni fa sapevano cosa sarebbe successo sulla Terra e quindi si sono preparati e mentre noi viviamo la nostra vita molti di loro ora sono presenti nella nostra atmosfera. Ci sono sempre stati ma adesso la loro presenza si è resa più evidente perché nell'esaminare il nostro operato hanno capito che abbiamo imboccato la via dell'autodistruzione. Visto dall'alto da bordo degli Space Shuttle il nostro mondo appare ancora meraviglioso è immensamente disponibile alla vita. Alla fine la verità dovrà venire a galla. Questo deve avvenire. Secondo me continuare a negare e avere paura serve solo ad accrescere i problemi. Siamo tutti sulla stessa barca in un periodo di distensione dei rapporti con l'Unione Sovietica possiamo attuare una demilitarizzazione radicale della nostra politica estera destinando ingenti risorse alla conservazione del nostro pianeta e ad aprirci al villaggio globale. Parte di questa nuova realtà riguarda l'ignoto e quindi la possibilità di entrare in contatto con visitatori oltre la Terra e oltre le nostre dimensioni spazio-temporali. Dobbiamo mettere in atto questa nuova apertura in un'atmosfera pacifica e senza recriminazioni. Il nostro governo è della gente è fatto dalla gente e per la gente e deve partecipare a questo processo di conoscenza non nascosto come un'unità segreta e ostile. Io richiedo pertanto che venga istituita un'indagine del...